Ancora ciao a tutti, aspetta, ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Cicomalo, Ismaele, e insieme siamo noi con voi, con te. Sì, oggi giocheremo a Poppy Playtime su Roblox, per chi non lo conoscesse, Poppy Playtime è il gioco di Huggy Wuggy, che sarebbe un personaggio tipo Five Nights at Freddy's, vabbè quanti giochi c'è a Five Nights at Freddy's, 5 o 3? Vabbè, un personaggio tipo di Five Nights at Freddy's che si chiama Huggy Wuggy, perché però il gioco si chiama Poppy Playtime. Che in realtà Poppy Playtime è la fabbrica, e Poppy è la bambola. È vero, il giocattolino. Che in realtà Huggy Wuggy non vuole essere cattivo, è solo che la bambola Poppy gli comanda di essere cattivo. È vero. Poppy che vuol dire già? Poppy che ne so? Bambola? No, Poppy vuol dire, allora Poppy vuol dire papà vero in inglese. E Huggy vuol dire abbraccio, Huggy Wuggy vuol dire abbraccio forte. Ok. Ti stringi così forte che ti uscite. Ok, allora giochiamo a Poppy Playtime, questo qui. Vai, mi unisco. Unisciti a me che è grande Isma, aspetta, però devo togliere la facecam, sperando che ci riesca. Oh, bello, va te. Beh dai, aspetta Isma, devo togliere la facecam. E ma un po', e ma un po' laga. Ma fai così. No, ah. Fai. Ah, non lo sapevo. Dai, unisciti a me. Raga, in questo gioco però non so se è il vero gioco, perché... Perché quando si avvicina Poppy si sentono dei rumori. Che io ho giocato con le cuffie e mi sono preso un infarto. Ma, che è ste musiche? Isma ho paura. E allora è questa... Oh, ma c'è sempre sta tizia... Gio, ma lo sai che è questa tizia qua? Con questi vestiti... Oddio! Con quei vestiti là quella... Ehm... Stava anche... Eccolo! Ti ricordi l'altra volta? Sì. Raga, questo è Aghiwaghi. Questo qua, guarda. Guarda. Ciao, Poppy. Già, comunque questa qua è la canzone che canta Poppy. Ok, Isma, dove andiamo? Ecco, un attimo. Sì, dai, ti seguo. No, invito amici, no. Vieni. Ok. Ma aspetta, però io vedo tutti buggati, guarda. Anche... Vieni. Sono... Ah, ecco sì. Isma, dove andiamo? Qua. Io ti sto seguendo, però. E cammina, Isma. Però aspetta, cioè, i muri sono diversi dall'altra volta, non si vede niente. Oddio. Isma, dove è? Io, ecco... Dove è? Qua, fermo. Perché? Guarda la che c'è. Dove? Guarda la che c'è. Guarda la che c'è. Guarda la che c'è. Oddio. L'hai visto? Sì, sì, qua. Ma è incastrato. Gio, io però ti vedo. Oh, sei morto? No. Sì, sono morto. Gio. No, mi ha ucciso. Gio, lo sai che quel rumore là è lo stesso che fa nel gioco? Che fa? Comunque, ma lo sai che... Aspetta. Ok. Raga, era questo. Erano questi i rumori. Raga, mi sono preso l'infarto. Questo qua era... Cioè, no, in realtà no. Aghi-waghi. Ok. Il ma... Dove? Oddio! Isma! Isma! Dove? Che... Oddio! Scappa! Sta camminando, sta camminando! Raga, scappiamo! Cioè, Aghi-waghi. Non sta... Se fa sto rumore vuol dire che sta qua vicino. Gio, ma comunque... Ma lo sai che... Oddio! Che cazzo di Paolo! Guarda qua! Guarda qua che c'è! Cioè, stavo qua! Stavo camminando! Stavo camminando, ho girato l'angolo e mi son trovato lui di fronte! C'ha il sangue, guarda! Oddio! C'ha il sangue! Isma, Isma, Isma! E però era... È diverso il gioco, Isma! Perché Lion ha giocato nell'altro gioco, che è quello là, tipo fabbrica, e quello è tipo muri, quindi non è il vero. Oh, eccolo, Isma! Sta camminando, sta camminando! Jordan! Aghi! Io non mi ricordo che ti dobbiamo giro. Isma, Isma, dove sei tu? Ecco... No, non sei tu. Oddio, sta aumentando la musica! Oddio, no, Isma! Ma sta qua vicino se fa sto rumore, raga! Raga! Poppy Playtime è il gioco più pauroso di tutta Roblox! Se non c'era Five Nights at Freddy's, ma c'è pure questo qua di Aghiwaghi! Oddio! Five Nights at Freddy's su Roblox! Ok, Isma, però, sta qua vicino... Isma, sta qua! Non c'è qua! Mi stava per prendere! Dov'è? 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 Sta qua, sta qua! Dove sei tu? Mi sono perso, però c'è un altro Aghiwaghi qui! Dove? Sì, perché in giro ci stanno tanti Aghiwaghi... Oddio! No, 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 non c'è un altro... E dove è quello femmina? Quello Rob? Isma... Infatti, allora, in giro ci stanno tanti Aghiwaghi, non solo uno che va in giro... Ragazzi, guardate! E lo sapete che c'è anche la femmina, c'è anche la fidanzata... La fidanzata di... Che si chiama... La fidanzata... Che si chiama Kissimisi... Kissimisi, ragazzi! Kissimisi che vuol dire? Kissi che vuol dire? Kissimisi... Oddio, oddio, oddio! Kissi... Kiss... Che vuol dire? Isma, non è che sta... Non Kiss... Kissi... E Kiss se ne... No, Kiss se ne frega! No, Kiss, va! Isma, è qua incastrato! Voi c'è un bacio, vuol dire... Vuol dire... Di modo... Ok... Bacio, bacio... Ok, Isma... Ma quanti... Quanti ce ne stanno? Oddio, Isma, qua incastrato! Mi so aperto, che l'ho già detto! Dove sta l'altro? Isma, dove sei tu? Io ne so... Io so... Neanche io non lo so, dai! Queste... Mu, ciao, Wagi, Wagi, buggato! Ah, mi sa che è quello là, ok! Ciao, sono dietro di te! E mi sa... Ah, ti ho trovato, allora! Aspetta, rimani fermo dove sei? Rimani fermo... Ah, no, aspetta! Oddio, cambia strada! Isma, rimani fermo! No, questo fai rumore... Ma perché fa così rumore? Ma se... Ma perché... Oh, oh, oh! Quanto sto uccidendo? Eh, ma... Eh, ma è così... Eh, no, ma è tutto lancato! Ok, quanto... Quanto sto uccidendo? Eh, ma hai sentito il suono? Che fa così... Ah, uccidi un botto di pezzo! Oddio, Isma, Isma... Eh... Is... Eh... No... Guarda, allora com'è il capo? Non so perché sei... Sei a fianco di qua, guarda, aspetta... Oddio, non ci sto capendo niente! Anche io, Isma, tu dove sei? Un attimo! Raga! Eccoti! Ciao, Isma! Vedi? Dove? Io ero qua... Gio, io ero qua dietro! Eh, ecco! Qua dietro! Eh, vedi! Questo qua è quello pagato! Sì, però c'è sta donna! Dai, oddio, oddio, Isma! Lui in realtà sta guardando là! Sta guardando là in realtà lui, non là! Isma, meglio andare via perché se ci uccide dobbiamo ricominciare! Sono qua! Dove vai? Di qua! Gio, ma lo sai che io a volte ti vedo che non mi segui e rimani fermo? È vero! Oh, ma chi è sta tizia? Oh, tizia! Mi dicono c'è... Sta tizia di Merma, è tua amica? No, ci vuole seguire! No! Oddio! Ah, no, no, non è un piccolo! Il piccolino piccolo! È un piccolo c'è... Ma stanno ritorlando dove eravamo all'opera? È un piccolo c'è... Oddio! È un piccolo c'è... E qua vicino? Io alzo! Per dire così... Ma io alziamo! Dove andiamo qui? Dove andiamo? Mani sulle spalle! Qua dietro! Qua è dove eravamo prima! Oddio! Oddio, ne vedo due davanti a noi! Ah, no, in realtà non ero... Là... Dove? Vieni, vieni, vieni! Dov'eri? Io ero qua dietro... Cazzo, sta facendo... Oddio! No! Sono... No! C'è lei... Giuseppe! Giolatana! Gheghi! Io ero qua dietro, dietro a questo qua! Dietro a questo muro! Ok! Samuro! Vabbè, siamo insieme! Comunque io ero... Dietro a quel muro! Meno male che non c'è fatto il jumpscare! Ero dietro a quel muro là! Non c'è fatto il jumpscare! Ci gogo! Di sti rumori! Eh, alleluia! 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 Ghi-guaghi! Pa, pe, pe! E dai! Oh, oh, Isma! Cammina! Stai andando nelle parti stesse! Eh, ma è difficile alzare così! Ero qua dietro! Ero qua! Ah, ero solo... Qua! Qua eravamo prima! Qua ero dove eravamo morti tutti i due! Qua dietro ero! Dove c'è lui adesso? Ok! Però adesso no! Qua non ci andiamo che c'è il poppy! Il poppy! Oh, Aghi! Sì, vabbè, Aghi e... Aghi! Aspe, Isma! Isma! Eh! Mi c'è la con... Oh, Dio! Che è successo? Niente! I messaggi Whatsapp! Sei morto! No, si vede... No, no! Eccoti! Vieni! Isma, i messaggi Whatsapp! Perché se no si vede il numero di... Se si vede il numero di... Preca! No, io mi so... Ecco, qua dietro c'è... C'è... C'è Aghi... C'è... 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 Aghi o poppy! Kissimissi! L'ha fidanzata tutta rosa! Dove si passa da là? Isma, siamo tornati all'inizio! Siamo tornati all'inizio! Qua sì! Sì, sì, sì! Ok, 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 sì! Perfetto! Sto andando a caso! No, qua c'è poppy! C'è... Aghi! Isma! Oddio! È poppy! È poppy! È poppy! Isma! Chissimi! Isma, non è dietro a noi! Ma perché poppy play? Ma perché... C'ha la faccia... Beh... C'ha la faccia con i... Dentoni! Dovrebbe essere il contrario! Perché... Ma infatti... Questo è quello che si muove! Isma! 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 Te perché... Perché tu sei... Oddio! 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 Che sta succedendo oggi? E ma se il rumore è così forte è qua vicino! Che è? Che è sto rumore? Isma, Isma, Isma Dove sei? Ah, eccoci Solo dietro a te Ma dove sei andato? Che è sto rumore? Oddio, ma è Kissi È Kissi Era qua Aghi, era Isma Qua c'era Aghi che si muoveva Ti ricordi? L'altra volta Dobbiamo far te Vedi, 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 vedi Oddio Ma io che ti ho detto? Isma, se mi insegue scappo E mi perdo, non me ne frega niente Ma in sto gioco dobbiamo solo scappare Non dobbiamo fare missioni Niente E io ti ho perso, Isma Ma sei scemo Ma sei Isma Porca Isma 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 Dove sei Devi troppo vederlo Perché? Guarda Guarda Dove? Dove sei? Qua Qua Oddio C'è qua E dove Joe Fermo 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 No Dove Aghi Raghi Tu C'è Aghi Tu Perfetto E Andare Nelle No Come ti dico No Tudi In Dei Tudi O Dove ci stanno dei nastri E lui Ti insegue così Che cammina così Quando finiscono? Quando finiscono? Quando finiscono? Quando finiscono? Quando finiscono? Ciao Oddio Andiamo qua Isma E basta Si è pure laggato il gioco Quanti piccoli cechi Ma il poppy playtime vero non c'è Isma C'è solo nell'app Il poppy playtime vero non è su Roblox Quindi Su Roblox Tra parentesi il gioco di Huggy Wuggy di Five Nights at Freddy's Di tutti quanti i giochi Quanti i giochi ha Five Nights at Freddy's? Dove sei? Esistono anche quelli falsi Quelli che hanno creato il vero gioco player Quello là Venni Venni Mamma tu eri qua Tu eri a fianco a me un minuto fa Oh bravo stai andando nella parte gioco Fai là Bravo Ti vado ad andare dentro Vai 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 Ma ok Mi sto andando Mi sto venendo Andando incontro Un piccolo cieco Allora dall'altra parte Raga No un piccolo cieco Chi è che è morto? Isma 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 Per un attimo mi è diventato uno schermo tutto nero Ma che c'è Oddio c'è oggi guardi Dove? E' qua Da me Ma dove sei tu dove sei? Non lo so È un piccolo c'è Ah no Ah si Ok Mi smaccio l'ansia però Io sto girando Alla parte là dove c'è Alla parte là dove c'è Aghiwaghi che è col tubo Davvero? Si Allora vado all'altra parte Oppure mi segui Aspetta vediamo se ci sei Ah perché stai andata da quello del tubo? Si Ah perché mi aspetti là? Perché io Io ero lontanissimo dalla parte del tubo Ero lontantissimo Ma ripena? Si Prima non sono rimasto fermo perché dopo tu non la ritrovavi la parte del tubo Tutto Mi sembra piccolo Si Si Trovami Forse 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 è qua Il ma Si Si Dove sei? Sto venendo un foggio Ah ok Io sto guardando tutte e due le paese Giò quando vedi una cosa Una luce verde vuol dire che sei vicino all'inizio Ok Dunque io vedo la luce verde Quindi sono vicino all'inizio Ok Quindi vieni all'inizio E dove è l'inizio? Allora Mi faccio uccidere da waki waki? No 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 Allora sai dove è? Ecco fermati Fermo Fermo E aspetta la minuti Ecco allora Tu da dove sei? Vai Adesso Bravo Ok Giù B Ah Sono da cosa rosa Ma io ci avevo visto Che nessuno Che nessuno No forse è qua Ma è qua Oddio Ah quindi sei morto qua Ma siamo sicuri? Oddio Ciao Ciao Oddio Che nessuno Ed è qua No No Vabbè Vabbè Il primo Aghi wagi L'inizio con l'uaghi Hello, uaghi, uaghi Uaghi, uaghi Uaghi, oddio mio, poppy Sto poppy Ah, Kissimissi, ciao, Kissimissi Un giorno possiamo fare Si può fare un gioco Kissimissi e poppy playtime E Kissimissi e basta, perché esiste solo poppy playtime Ma come si chiamerà? Sempre poppy playtime, però Non è poppy playtime Perché con Kissimissi e questo qua di Roblox Anche qua è bello, però Lo devo ammettere, dai I giochi di Roblox sono tutti belli Tranne Adoptami Tranne Adoptami e Brocavent Ci sei? No, dove sei? Dove cazzo vai? Dove sei? Dove sei? Ma mi vedi? Comunque 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 Giordano, guarda la porta di Kissimissi Quindi indietro? Si Ma sto andando bene? Vediamo No, quel coso del tubo Ma come? Guarda Comunque E che ne so Devo andare E devo rifare tutto il giro Per arrivare a quello di Kissimissi Perché tu mi aspetti là Si Ah, è vero Ecco dov'è Eh, si Ecco Sono arrivato Ma davanti Dove? Dove sei? Dove? Qua E dillo Oh, dove sei? Di qua Kissimissi Guarda, vieni Io ero andato Quattro Sì A faccia un muro Tu sei passato Mi so Mi hai fatto tanto Sei passato Io sono andato Per tu di qua E sono andato Da l'altra Ma che c'è Senza Mi Ma lo finiamo Sto gioco Sì Aspè Se adesso moriamo Lo finiamo Se non moriamo Non lo finiamo Cioè a parte Vabbè il video Non deve essere lungo Isma Dove stai? Dove stai andando? Ti volevo perdere Ti devo seguire la mente? Sì Dove? Isma Mi hai fatto perdere Coglione del cazzo Mi hai fatto perdere Eccoti Così che è? Dove è Aghi? Isma Aghi? Aghi 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 Isma Ciao Aghi Vicolo cieco Coglione del cazzo Era qua Aghi Aghi Ma dove è? Ah No Per Non è Che? Dove? Dove? Dove è Aghi 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 Ciao Isma Dove era? Ma dove è Aghi Aghi Non c'è più Non c'è più Aghi Aghi Sì però Non c'è Aghi Aghi Vabbè Figliamo sto video Figliamo sto video Prima che moriamo Isma Andiamo Io sono uscito Ok ragazzi Spero che il video Vi è Non vi sia piaciuto A me tantissimo E iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Lasciate like Scrivete qua sotto Un commento Virgola Scrivete fatto Fatto Il tuo amico Giola Ah non è entrato Un mio amico Ah Che grande Allora Isma Finiamo questo video Aghi Aghi Aspetta Aghi 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 Finiamo questo Finiamo questo video Nel migliore dei modi Prima devo riattivare Ulla Io riattiva la facecam Ulla Io riattiva la stacam Isma Ciao Ulla Ok ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Che forse sarà domani Io metterò la intro E la outro Anche in questo video Come farò nei prossimi video Del futuro E come farò anche da grande Che in un altro canale In un altro canale ancora E come farò in un altro E come farò in un altro universo Universo di me Non scherzavo Ma in questo video Le abbiamo dette le parolacce No 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 In realtà io Ne ho detta una E come Ho detto tipo No No due Ho detto Cazzo E Baffonculo Poi 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 Ho detto Anche Porca troia Però Ho detto E vabbè Perché mi sono spaventato Oddio E le altre due Cioè Le ho dette Tutte e due Piano Però Porca troia Ho detto Pianissimo Porca troia Eh Perché io Non ti ho sentito Tanto bene Porca traia Arga puttano Arga traia Dove è una figa Porca figa Dove è una figa Aghi 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 Isma Finiamo sto video Sì Ciao